bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un bel po di novità per quello che riguarda le ultime 24 ore di fortnite ancora aggiornamenti per quanto riguarda la stagione 3 essi oramai ogni giorno che passa qualche miglioramento viene fatto nei file di gioco io li trovo e ve li faccio vedere ma voglio anche farvi vedere un fantastico trucco per aprire o in maniera velocissima le casse degli scagnozzi e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti quelli che ogni giorno mi seguono in live su twitch e che si stanno iscrivendo al secondo canale ragazzi xyuder best moment grazie mille ovviamente anche per utilizzare nello shop il mio codice creator xyuderone mi raccomando ragazzi non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e ci sono come vi anticipavo delle informazioni questa è il re questo è il report preso direttamente da nintendo switch e quindi notiamo che è tuttora confermata la data di uscita della season al 17 giugno questo vuol dire che siamo sicuri al 99,9999% che non ci saranno altri delay quindi nessun ritardo vi ricordo che il 15 ci sarà l'evento nel video di ieri vi ho addirittura fatto vedere delle posizioni interessante per andare a vederlo il 17 invece vi aspetto tutti per il cambio a season non vedo l'ora finalmente ce l'abbiamo fatta e ci sono delle altre informazioni invece davvero molto interessanti che ci fanno ben sperare quello che vedete proprio sotto di me è l'elenco di tutti e di tutte le patch che fanno durante i test server o meglio come provano gli aggiornamenti nei loro test server e se andiamo a vedere voi qua vedete fino a 13.20 quindi se salite di tre righe purtroppo non vedete che c'è la mia videocamera ma c'è scritto 13.50 questo vuol dire 13.30 questo vuol dire ragazzi che la 13.00 la stagione la 13.10 e la 13.20 sono già pronte sono davvero avanti con il lavoro io spero davvero che sia un buon segnale per non avere mai più ulteriori ritardi ma sappiamo che epic fa un po quello che gli pare quindi incrociamo le dita ma diciamo che i pronostici sono davvero buoni e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ed è una curiosità ragazzi siamo nell'account di un ragazzo cinese giapponese non lo so kuren si chiama se leggo bene e dovrebbe essere attualmente il player che ha fatto il punteggio più alto nelle arene come vedete sotto di me 100 mila 196 punti non dovrebbe essere il punteggio più alto in assoluto perché ricordo che ci fu un ragazzo che arrivò a 145 mila punti in arena ma in realtà gli si bravissimo c'è tanta roba assurdo tra parentesi però dovrebbero anzi quasi sicuramente azzerarsi i punti con il cambio season quindi un applauso per lui che si è fatto questa grande sbatta e dovrà ricominciare tutto da capo ovviamente fra una manciata di giorni e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché lo sapete chi è questo ragazzi forse non vi dice nulla la faccia questo signore è site mi dice niente ok ve lo ripeto io site ne abbiamo parlato giusto 34 giorni fa nel video news è uno dei giocatori che si sono e che si stanno lamentando di come tfew scope e innocent quindi il team ovviamente di tfew droppa sempre in nelle competitive alla grotta e lasera principalmente non dà la possibilità a nessuno di giocare il problema è che da qualche ora site ha fatto un'accusa veramente molto pesante ai danni di tfew e di molti pro player ha già cancellato il tweet ma sono riuscito a recuperarlo ragazzi e lui dice io sono convinto che tfew compagnia bella e la maggior parte dei pro player utilizzi delle macro che cosa sono le macro per chi non lo sapesse la macro è la pressione di un tasto ok quindi sulla tastiera che però ha ricevuto delle istruzioni per compiere più di una più di una cosa ok per essere più facili quindi potrebbe potresti inserire il salto e il muro in un unico tasto il che vuol dire che premendo quel tasto il tuo personaggio salterà e automaticamente metterà un muro davanti ora io ho fatto un esempio stupido ma una roba del genere studiata sviluppata e inserita in un contesto competitive potrebbe diventare molto vantaggiosa per chi ne abbia appunto preso le grandi qualità ovviamente arrivano e anche questi sono stati cancellati una valanga di insulti pesantissimi da parte di pro player quindi c'è unknown degli nrg c'è canada dei tsn tsm c'è crio envy back oppure reform calculator quindi ne ho nomi abbastanza importanti che ovviamente non sembra abbiano risposto in maniera molto diciamo carina e ne si siano esposti in maniera ufficiale si sono limitati semplicemente a dargli qualche insulto lui comunque continuerà a portare avanti questa sua teoria perché come vi ricordo dal regolamento di fortnite è bannabile l'utilizzo di macro per giocare quindi per entrare nelle partite in battle royale staremo a vedere tfue non si è ancora ovviamente esposto anche perché sennò avrebbe fatto un papiro di insulti lungo mezzo metro quindi staremo a vedere un pochettino che cosa succederà e andiamo avanti perché c'è un'immagine davvero molto interessante che sta girando in queste ore sui forum probabilmente l'avrete vista in alcuni video di riguardanti fortnite questa ok qua come vedete siamo all'agenzia solo che nella parte centrale vi faccio vedere l'immagine un po più zoomata come vedete non c'è la struttura ma c'è quest'enorme buco gigante signori è un'immagine fake quindi se ci sono i video con scritti ho trovato la nuova agenzia sono il dio del mondo perché so cosa succede all'agenzia buchi in agenzia sono completamente fake ragazzi è semplicemente un progetto in 3d che ha fatto un ragazzo non italiano ovviamente per perché si sta annoiando dato che purtroppo non ci sono molte notizie importanti e ha appunto voluto creare una sorta di apertura nella parte sotto dell'agenzia niente di ufficiale ragazzi quindi non vi preoccupate non è uno spoiler non è niente non è niente arriviamo all'ultimo argomento di oggi che è un argomento molto curioso ed interessante a parte questa bellissima immagine di tfew con l'accapatoio di twitch che mi vale solamente potrei chiederlo anche qua al video nel senso proprio easy no parlando seriamente c'è un metodo veramente interessante per aprire in maniera super rapida la cassa degli scagnozzi lo sappiamo ragazzi perché da tanto si parla di uno dei problemi di questa season un po più side problem quindi non così esagerati ma quello di essere esposti ok quando perquisiamo uno scagnozzo oppure un avversario ma anche quando stiamo aprendo dei forzieri speciali quindi essere esposti vuol dire che se non siamo coperti possono laserarci in pochi secondi poi c'è tutto il discorso del tutto discorso che sappiamo di gente che gioca con il pad ed è capace a laserare ma non siamo qua a parlarne il la cosa che voglio far vedere oggi e ve la faccio vedere mentre vi parlo è un ottimo metodo che usa il signor tfew per aprirli lui come vedete oh mi sta cadendo va bene è volata per terra la la campanella easy lui è sempre alla grotta eccolo qua è già travestito da scagnozzo e come vedete ora si appresta ad andare verso il primo forziere ok lui mette sempre giù la piramide perché probabilmente per evitare che ci sia qualcuno oppure pronto a modificarla appunto per proteggersi guardate cosa fa ok siamo davanti al forziere speciale appena fa la scansione avete visto che è successo la sta già aprendo lui ha fatto la scansione e nel momento in cui è partita la scansione ha switchato sul piccone questo sembra essere un bug che funziona ora vi faccio andare direttamente il video a velocità normale in modo che lo vedete fare anche sull'altro forziere e che può appunto azzerare il tempo in cui viene aperto un forziere speciale dello scagnozzo è davvero interessantissimo questo nuovo metodo è un metodo assolutamente da provare perché potrebbe risultarvi fondamentale qualora doveste prendere delle armi velocemente oppure foste senza armi e ci sono invece i forzieri ancora da aprire insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche il video news di oggi vi ricordo di non dimenticarvi di iscrivere i miei canali lasciare un bel like e a me mi vedete proprio adesso in live su twitch ciao